I carabinieri della compagnia di Canicattì diretti dal capitano Salvatore Menta dopo giorni di febbrili ricerche sono risalite all'autista che giovedì sera della settimana scorsa ha danneggiato il cavalcavia di Contrada Marrone lungo la variante della statale 122 alle porte di Canicattì. L'uomo era alla guida di un camion con un carrello sul quale era trasportato un escavatore rimasto incastrato sotto il cavalcavia. Dopo l'impatto con la struttura lo stesso non arrestò la marcia ma decise di proseguire incurante dei danni che aveva provocato. Dalla parte sottostante alla struttura infatti si staccarono numerosi detriti che finirono per essere travolti da una Fiat Bravo condotta da un giovane di San Cataldo che fortunatamente non subì gravi conseguenze. I carabinieri hanno denunciato per questi fatti all'autorità giudiziaria un uomo di 43 anni di Canicattì operaio presso una locale ditta impegnata nel movimento terra. L'uomo ora dovrà rispondere dell'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti.